Presentato a potenza e volume La Famiglia in Basilicata, una ricerca voluta dalla regione Basilicata e condotta dal Centro Internazionale Studi Famiglia. Per l'assessore regionale alla salute Attilio Martorano è necessario pensare a politiche di promozione sempre meno basate sull'assistenza passiva e più coordinate tra tutti gli attori territoriali. Le famiglie chiedono politiche interventi che, ha sottolineato Adriana Rosas, una delle ricercatrici che ha curato l'indagine, rendano più vivibile la vita. Interventi sulla occupazione sicuramente perché il lavoro è la grande necessità e diventa anche il grande nemico qualche volta però della famiglia perché le condizioni di lavoro, gli orari di lavoro, la distanza per il lavoro mettono la famiglia sotto pressione. La famiglia rappresenta il collegamento con il passato e un ponte verso il futuro, ha evidenziato Lucia Colicelli dell'Ufficio Gestione Interventi Socio-Assistenziali. Proseguire il cammino verso servizi che siano sempre più domiciliari e consentire sempre più alle famiglie di partecipare anche alla programmazione regionale.